Elena Pillozzi, candidata alle primarie del PD per le amministrative 2013, il partito come ne uscirà da questa competizione interna? Le primarie sono uno strumento estremamente complesso che va gestito in modo adeguato. La prima volta che i primi primi di campi li sutilizzano per un confronto sulla candidatura a sindaco e quindi è la prima esperienza che andiamo ad affrontare. L'intenzione del segretario campigiano Matteo Goretti è definire in maniera estremamente codificata una serie di regole, tempi e modalità in modo da evitare i più possibili rischi dovuti alla gestione personale di questo strumento.